I carabinieri del NAS di Pescara hanno arrestato in flagranza di reato un medico chirurgo in servizio al 118 della Slavezzano Sulmona L'Aquila perché chiedeva ad una paziente ingenti somme di denaro per somministrarle a domicilio delle terapie provenienti dalla Svizzera. Le indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Sulmona sono state avviate a seguito della denuncia della vittima rimasta perplessa dalla pretesa del medico in occasione di una visita di emergenza al pronto soccorso di Sulmona l'ingenti somme di denaro per somministrarle a casa delle terapie adiuvanti. I militari poi hanno assistito alla consegna di 230 euro al medico e sono immediatamente intervenuti prima che lo stesso inoculasse alla vittima per via endovenosa il farmaco che aveva portato con sé. Inoculazione che peraltro avrebbe eseguito senza alcun piano terapeutico a una paziente che sta affrontando cure salvavita utilizzando addirittura un dispositivo medico risultato scaduto. Al termine delle successive perquisizioni effettuate unitamente ai militari della compagnia carabinieri di Sulmona nel corso delle quali è stato sottoposto a sequestro ingente materiale ritenuto utile alle indagini il medico è stato tratto in arresto e accusato di concussione consumata nei confronti della paziente poiché abusando della sua qualità di pubblico ufficiale e approfittando della condizione di estrema fragilità della vittima pretendeva somme di denaro da versare ad ogni somministrazione in cambio di una verosimile specialità medicinale pur conoscendo le delicate condizioni della vittima. Tra i farmaci nella sua disponibilità vi erano flaconi riportanti l'indicazione per uso riservato agli ospedali dei quali si sta accertando la reale provenienza oltre a preparazioni già pronte da somministrare a potenziali altri pazienti. L'arrestato ora si trova nel carcere di Pescara a disposizione dell'autorità giudiziaria.